In questo periodo di pandemia i riflessi sono stati pesanti per tante categorie, da quelle familiari a quelle economiche. In questi due anni abbiamo cercato in più occasioni di fare degli sforzi importanti, anche con risorse dell'amministrazione comunale, per andare incontro a queste difficoltà. Oggi ne facciamo un'altra importantissima, mettiamo 1.8.000.000 a disposizione per la riduzione della Tari. Aiuti concreti in arrivo per privati e imprenditori, il sindaco Serie e l'assessore ai tributi Sara Cucchiarini hanno annunciato risorse ingenti che permetteranno di alleggerire le bollette della tassa sui rifiuti per l'anno in corso. Il comune utilizzerà tre fondi e diverse modalità di erogazione per diminuire la pressione fiscale. Il primo fondo è di circa 410.000 euro che verranno destinati indistintamente alle bollette di tutti i cittadini, grazie al recupero dell'evasione degli anni precedenti. Il secondo, invece, di oltre 850.000 euro, deriva dal decreto sostegni bis dello Stato ed è dedicato alle attività produttive che a causa della pandemia hanno subito più giorni di chiusura. In questo caso si tratta di un'agevolazione che i titolari e i gestori si ritroveranno direttamente in bolletta e sono previste quattro fasce di riduzione in base alle categorie. L'esenzione sarà totale per cinema e teatri, impianti sportivi e parchi giochi, agenzie di viaggi e discoteche. L'ultima operazione riguarda le risorse del bilancio comunale per un importo di quasi 500.000 euro che andranno ad aiutare le famiglie in difficoltà. La riduzione sarà del 100% se l'ESEE non supera gli 8.265 euro e del 60% se è compreso tra gli 8.266 euro e i 13.000. In questo caso sarà necessario fare un'istanza quindi fare una richiesta per l'esenzione e questa manovra è fatta in collaborazione con i sindacati che si mettono a disposizione per andare ad elaborare un'ISE, anche un'ISE corrente, quello che comunque fotografa la situazione degli ultimi sei mesi, in tempi brevi e in tempi utili per poter permettere a questi soggetti di partecipare a questo avviso pubblico di riduzione delle bollette e vedersi riconoscere quello che è un proprio diritto, un sostegno di diritto. Poi daremo comunicazione anche attraverso appunto Fano TV appena uscirà l'avviso pubblico per poter partecipare a questo importante sgravio sulle bollette.